Letizia Moratti e la spara grossa, Pisapia in TV svergognato così. I candidati sindaci di Milano, Letizia Moratti e Giuliano Pisapia, erano ospiti ieri sera negli studi RAI di Milano per il programma TV Tribuna Politica, condotto da Emilio Carelli, già direttore di Sky TG24. La comparsa dei due politici ha fatto scena, visto che la Moratti ha ricacciato in TV un aneddoto sul passato del suo rivale, che avrebbe a che fare con il futto di un'automobile. In rete sono sbucate le carte del pubblico ministero, quelle che riguardavano direttamente il caso, e non sono mancati neanche gli interventi da ambo le parti politiche. Per i giustizialisti, ad esempio, Giuliano Pisapia è una persona invotabile, mentre alcuni esponenti del PDL hanno sottolineato come la Moratti l'avesse fatta grossa. Una denuncia è arrivata verbalmente da parte della società Pannunzio, ispirata a principi liberali, per la quale il conduttore di Buccarelli ha violato le più elementari regole di ontologia professionale, negando la possibilità di replica ad uno dei due intervenuti, inquinando così faziosamente un evento che avrebbe dovuto rispondere rigorosamente a norme di realtà di correttezza. Il diretto interessato Giuliano Pisapia, invece, ha commentato con un laconico «è una cosa vergognosa» al termine della puntata TV, dove appunto non ha avuto modo di replicare all'accusa della Moratti. Di seguito il video di quanto accaduto.